Oh no, ora non la tireremo più fuori. Così sicuro sei tu. Sempre per te non può essere fatto. Tu non senti ciò che dico. Maestro, spostare delle pietre è una cosa. Questo è del tutto diverso. No, non diverso. Solo diverso in tua mente. Devi disimparare ciò che hai imparato. D'accordo, ci proverò. No, provare no. Fare o non fare. Non c'è provare. Non c'è riesco. È troppo grossa. La grandezza non conta. Guarda me. Giudichi forse me dalla grandezza. Non dovresti farlo, infatti. perché mio alleato è la forza ed un potente alleato essa è. La vita essa crea ed accresce. La sua energia ci circonda e ci lega. illuminati noi siamo non questa materia grezza. Tu devi sentire la forza intorno a te. Qui, fra te, me, l'albero, la pietra, dovunque. Sì, e anche fra la terra e la nave. Tu vuoi l'impossibile? Ander, ander. Ehm. 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 Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Io non posso crederci. Ecco perché hai fallito.